Investire in ETF short per guadagnare col mercato che scende, soprattutto oggi che i massimi, è davvero una buona idea? Scopriamoli insieme in questa nuova puntata di Segreti Bancari Live. Ben trovati, buon venerdì a tutti, io sono Giacomo e come ogni settimana sono qua in vostra compagnia per insegnarvi a investire in modo più consapevole, più semplice, più redditizio, anche evitandovi di commettere degli errori come quello di investire in ETF short a cui è dedicata questa puntata di Segreti Bancari Live. Che cos'è un ETF short? È un ETF che permette un'operatività short, ovvero un'operatività ribassista che, almeno sulla carta, ci permette di guadagnare quando i mercati scendono. Perché nel mondo del trading esistono due forme di operatività. L'operatività long, ovvero l'acquisto e la detenzione di strumenti finanziari per poterli rivendere ad un prezzo superiore a quello di acquisto, e l'operatività short che consiste nel vendere degli strumenti finanziari che non si hanno più bassi, per poi andarli a ricomprare a prezzi più bassi. L'ETF short fa questo ed è un prodotto retail per il pubblico, diciamo, degli investitori comuni, perché un professionista non userebbe mai un ETF short. Andrebbe a shortare, cioè a vendere allo scoperto, direttamente al mercato, magari con un future. Cosa fa l'ETF short? L'ETF short, una volta comprato, replica in modo speculare l'andamento del sottostante. Ovvero, se il mercato sottostante guadagna il 3%, per ipotesi, l'ETF short perde il 3%. E la stessa cosa capita in senso contrario, quindi se il mercato scende del 3%, l'ETF short guadagna il 3%. Questa è purtroppo l'operatività più standard, perché poi ci sono anche gli ETF short a leva, e li identificate perché nella descrizione del titolo c'è un numero, 2x, 3x, 4x, che significa che la variazione del sottostante è amplificata di tante volte quant'è la leva. Per scendere nel pratico, se la leva è 2, vuol dire che a una variazione del sottostante dell'1%, corrisponde una variazione dell'ETF doppia cambiata di segno. Ovvero, il mercato fa più 1, l'ETF perde il 2, il mercato perde il 2, l'ETF guadagna il 4. Quindi capite come si tratta di investimenti che sono molto fortemente speculative. E a chi sono adatti quindi? Beh, come dicevo, sono adatti tipicamente a un investitore al dettaglio. Gli istituzionali usano l'operatività short, ma usano i derivati. Qual è il senso dell'operatività short? Può essere o quella di fare il cosiddetto hedging. Hedging vuol dire uscire dal mercato senza vendere i titoli. Voi immaginate di essere un fondo di investimento che ha magari 500 titoli dell'S&P 500. Se vuole ridurre l'esposizione, invece di mettersi lì e vendere uno ad uno i titoli che compongono l'indice, vende allo scoperto per esempio un future sull'S&P 500. In questo modo è come se avesse venduto i titoli, perché se il mercato sale naturalmente il guadagno diciamo del sottostante e sterilizzato dalla perdita sul derivato, se il mercato scende io perdo sul sottostante ma guadagno sul derivato, perché il derivato come un ETF short guadagna quando il mercato scende. Però questo va bene per gli istituzionali. Il signor Rossi, quindi te che stai guardando questo video, in buona sostanza, cosa può fare? Può semplicemente vendere il sottostante se si aspetta che il mercato scenda. Anche perché l'ETF short che attira così tanto, soprattutto oggi, in cui il mercato è comunque abbastanza caro, l'ETF short dicevo ha un paio di trappole che è utile conoscere. La prima trappola sta nella valuta, ovvero voi potete avere per esempio un ETF short che è in valuta dollaro e avere un ETF long, quindi essere investiti su un ETF che investe sul mercato americano ma in euro. In questo caso cosa succede? Che il disallineamento tra le valute può far sì che la copertura non sia perfetta. Quindi sostanzialmente voi andate a speculare, tra virgolette, al ribasso sul mercato americano, il mercato americano scende ma non scende, ipotesi, il vostro ETF. In realtà adesso ho fatto l'esempio contrario perché ho immaginato che l'ETF short fosse in euro e il sottostante in dollari, però il concetto è chiaro. Il concetto è che se io ho due variabili all'interno dell'ETF che entrano in gioco, quindi io vado a shortare tra virgolette un indice che è in euro, se l'euro si svaluta nei confronti del dollaro il sottostante perde ma il mio ETF no perché l'ETF una volta convertito in euro resta su un valore elevato. E poi c'è una seconda trappola che è molto più insidiosa che è il cosiddetto effetto compounding, ovvero la replica del sottostante cambiata di segno non è continua come nel caso dell'ETF long ma è a scatti, nel senso che ogni giorno si viene a resettare la situazione, si va a vedere qual è la variazione del sottostante e la si cambia di segno sull'ETF. Questo cosa significa? Che immaginate questa situazione qua, noi partiamo con un ETF short a leva 2 che replica un indice il cui valore di partenza è 1000. 1000 è l'indice, 1000 l'ETF. Se il sottostante guadagna, anzi scusate, se il sottostante perde il 20% l'ETF guadagnerà ma se poi dopo accade la cosa contraria, quindi sostanzialmente l'indice ritorna al punto di partenza, l'ETF non torna più al punto di partenza perché la variazione non è calcolata sul punto indice, ma è calcolata sulla variazione in percentuale e voi sapete che se partite per esempio da 1000, andate a 1200, fate un 20% di delta e poi tornate a 1000, in realtà da 1200 a 1000 non c'è un 20% di differenza, c'è un 16, quindi questo ribaltato sull'ETF provoca dei disastri, nel senso che magari voi partite da un certo livello, l'indice ritorna a quel livello lì, ma l'ETF non lo fa più. A chi è adatto allora l'ETF short? A chi vuol fare un trading di breve periodo ed è un investitore, anzi un trader, tra virgolette dilettante, perché poi ci sono i costi importanti dell'ETF short. I primi costi sono i costi del cosiddetto TER, il total expense ratio, cioè il costo che tutti paghiamo sugli ETF, ma c'è anche un costo legato al prestito titoli, perché io ho dato per scontato questo aspetto poco fa, se vado a vendere allo scoperto un qualcosa che non ho, di fatto come faccio a consegnare una roba che non ho? Devo prenderla prestito, ed è quello che fate voi se attivate per esempio su Fineco il prestito titoli, autorizzate la banca a dare a prestito i vostri titoli a un ribassista, che potrebbe essere anche l'ETF short. Quindi l'ETF short per shortare il mercato, ovvero per andare al ribasso, deve prendere a prestito dei titoli e paga questo prestito, di conseguenza i costi sono piuttosto alti. Il mio consiglio è evitate l'ETF short ed evitate di shortare il mercato. Se proprio volete farlo, vendete short un ETF long, ovvero individuate un ETF, magari sull'S&P 500 e lo vendete senza averlo. In questo caso naturalmente evitate i problemi dell'ETF short, ma il mio consiglio è non shortate mai il mercato utilizzato una strategia di lungo termine che si basa sul fatto che tendenzialmente i mercati azionari saliranno e quindi comprate e tenete. L'operatività short comunque è un'operatività di breve termine. Noi ci fermiamo qua, io vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube se mi state guardando nella versione video o di registrarvi al mio podcasting e di parlare di questo progetto con i vostri amici per aiutarmi a far crescere il numero di iscritti e far crescere Segreti Bancari Live. Ci vediamo venerdì prossimo con un nuovo contenuto.